Guarigione gratis Durere di capo, mal di testa, punte demassaggiate Se face masaj, presa o punctura, sifa masajul, presa o punctura, mal di testa Puntele de masaj, acopuntura, presa o punctura Puntele de masaj, acopuntura, presa o punctura Se face timp de 1 minut minim, nu mai mult de 2 minute Si durerea trece El mal di testa, sifa 1 minut, maxim 2 minute Il mal di testa Guarigione gratis Guarigione gratis Guarigione gratis